Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi assaggeremo una novità della Kinder che è uscita da poco nei supermercati I cornetti della Kinder ma stavolta alla pesca, all'albicocca Eccoli qui, guardate un po', adesso li assaggiamo e proviamo un po' come sono, se sono meglio di quelli al cacao oppure se sono un pochino inferiori, peggio diciamo Adesso li assaggiamo insieme Allora, eccoli qui, unboxiamo, in ogni confezione ce ne sono 6, li ho pagati 2,89€ Allora, unboxiamo Ecco qui, vedete come si presentano Eccoli qua Fronte e retro Beh dentro però la marmellata c'è Ecco qua Allora, assaggiamo Soffici Si sentono entrambi i gusti, la marmellata è buona Devo dire meglio questi che quelli al cacao Buoni Ovviamente molto, molto buoni Questo gli è riuscito meglio rispetto a quello al cacao, va detto La marmellata si sente, il cornetto è sofficissimo Ed è molto, molto buono Veramente Ed è anche leggero Detto questo ragazzi, si conclude qui questo video Voi iscrivetevi al canale per non perdervi video come questo e tanti, tanti altri contenuti Seguitemi anche su Facebook, Instagram e TikTok Trovate il link in the box Lasciate un bel mi piace a questo video Commentate questo video, fatemi sapere se anche voi avete assaggiato questi cornetti O se li assaggerete in futuro E noi come al solito ci becchiamo al prossimo video Ciao belli